Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Cari figli, come madre sono con voi per aiutarvi con il mio amore, preghiera ed esempio a diventare seme di ciò che avverrà, un seme che si svilupperà in un forte albero ed estenderà i suoi rami nel mondo intero. Per divenire seme di ciò che avverrà, seme dell'amore, pregate il Padre che vi perdoni le omissioni finora compiute. Figli miei, solo un cuore puro, non appesantito dal peccato, può aprirsi. E solo occhi sinceri possono vedere la via per la quale desidero condurvi. Quando comprenderete questo, comprenderete l'amore di Dio ed esso vi verrà donato. Allora voi lo donerete agli altri come seme d'amore. Vi ringrazio. Questo film lo dedichiamo ai folghi, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli. Ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose. Perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Siamo noi, siamo noi. Siamo noi, siamo noi. I cuori puri dell'Italia siamo noi. Spirito Santo, scendi su di lei. Gospa, maica moja, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti